Ciao ragazzi, bene allora ieri abbiamo parlato se realmente quando noi decidiamo di adottare dei cani da guardia ne abbiamo veramente la necessità, perché secondo me acquistare solo i cani da guardia così perché ho la passione, come ogni tanto le persone mi dicono è un po' rischioso perché poi si rischia realmente di avere dei cani di quali poi da un lato uno non ne ha l'utilità e poi possono essere impegnativi sotto il profilo della gestione, bisogna conoscere un po' di cinofilia, insomma secondo me chi adotta i cani da guardia deve vivere in una casa con giardino e deve sentire realmente la necessità di sentirsi protetto ma specialmente di voler mettere al sicuro la propria famiglia che è sempre quello che ci sta più a cuore. E oggi invece vi vorrei trattare un po' l'argomento di che spazio noi abbiamo bisogno, perché se è vero che non è il caso di avere un giardino grande come il mio, come spesso hanno dei miei clienti, hanno dei giardini infiniti, è persino difficile anzi è molto difficile far lavorare una coppia di cani con quei giardini infiniti. Ci sono state delle volte che in proprietà mastodontiche io ho poi fatto fare una recensione più adiacente, più prossima all'abitazione perché di avere i cani che facevano la guardia a 800 metri e la casa scoperta questo alla fine non interessava a nessuno. Allora io tutti i miei cani li tengo a coppie all'interno di spazi, ad esempio loro, io adesso sto appoggiando il mio telefonino su questo testone qua, che adesso lo sposto un pochino perché sennò non riesco a fare il video, ad esempio loro mi fanno la guardia a questo giardino, sarebbe un anti giardino della casa dove abita mia figlia e non so, è qualche centinaia di metri quadri, però in allevamento io i cani accoppi in 200 metri quadri che se sono bene distribuiti e all'interno di quei 200 metri quadri si ha tutto ciò che serve affinché il cane oltre alla femmina, la femmina e al maschio, possano trovarsi quell'ambiente per vivere, godersi un po' questo territorio, 200-300 metri sono più che sufficienti. Bisogna vedere però come sono distribuiti, come sono organizzati e specialmente anche dove sono ubicati, perché se io ho 200 metri di spazio e sono in un villaggio dove ho tutte case attorno, è ovvio che in questi 200 metri quadri che potrebbero essere più sufficienti, cominciano ad essere un po' pochi per tutti i problemi magari, non è che mi creano tanto i miei cani, ma magari creano i cani dei vicini con i miei cani, creano gli amici e gli ospiti dei vicini di casa che tutti i momenti arrivano e quindi i miei cani vanno in protezione del territorio. Io ogni tanto sento a dire che le persone vorrebbero quei cani, li vogliono ormai telecomandati, però c'è questo, tu sei tanto affettoso, guardate il suo scopo qual era, praticamente buttarci qui e volere di tutto da me. Questi sono i cani potenzialmente pericolosi e perché nel momento in cui questo mio spazio, questa mia porzione di terreno è molto sollecitata, io non riesco ad avere questi cani telecomandati che riescono a capire solo quando, abbaiare solo quando ce n'è la necessità. Per loro tutti quelli che si avvicinano al loro territorio rappresentano un pericolo. Non sono cani assolutamente i cani da guardia che abbaiano inutilmente, ma quando un parente, un amico del vicino di casa viene per trovare loro, si avvicina alla proprietà, beh per il cane da guardia non è per niente inutile questo. È utile la sua sorveglianza per le persone che dicono, no ma io voglio che il cane non abbaia e mi morda solo le persone che entrano e gliela faccia pagare, eccetera, beh non sono i cani che allevo io e non è il concetto di cani da guardia che io. Quindi nel momento in cui, devo solo spostare sto toro qui, nel momento in cui noi decidiamo di, devi lasciarmi fare un po' sto video, decidiamo di adottare un cane e ci dobbiamo porre il problema quanto è grande lo spazio nel quale lo vogliamo inserire, escluso completamente la grande terrazza, però davanti a me c'è un parco, lo farò correre nel parco, escluso completamente il grande balcone perché intanto lo porto in passeggiata perché il cane, per essere un buon cane da guardia, deve avere quella territorialità che non lo, non gli fa preferire andare tanto a passeggio, gli fa invece preferire sorvegliare il territorio dove lui ha la sua riserva di cibo, ha i suoi datori della riserva di cibo e quindi ha qualcosa, ha uno scopo per proteggerli, un po' come i cani da gregge, non è che se ne vanno in giro per i giardini e ti stanno attaccati a gregge. E questo era ciò che io vi volevo dire, quindi bisogna guardare prima di adottare una o meglio una coppia di cani da guardia se abbiamo uno spazio necessario, dove è ubicato, come vi ho detto non è necessario avere chissà che giardino, tanti dico 20.000 metri di terreno e come cazzo gli faccio lavorare due cani in 20.000 metri? Fin quando si tratta di vendere un paio di cuccioli, poi spegnere il cellulare o non farsi trovare è un discorso, ma laggiù dove con il cliente si vuole impostare un qualcosa che poi crei sicurezza alla famiglia che funzioni e tanti dettagli, quelli che io chiamo le condizioni ambientali sono importanti e lo spazio anche, quindi troppo piccolo perché abbiamo un parco vicino e ci immagineremo che lo libereremo nel parco oppure perché andiamo tante volte a fare passeggiato in montagna e quindi secondo noi gli basta la terrazzina? No, delle porzioni di terreno molto grandi non lo so, bisogna in certi casi ridurli, calcoliamo che un minimo di 200-300 metri quadri ci vogliono e bisogna organizzarli in un certo modo. Bene, oggi vi volevo parlare di questo argomento perché lo spazio che abbiamo a disposizione è un'altra cosa che dobbiamo tenere in considerazione prima di prendere un paio.